L'obiettivo di eliminare la peste suina africana dalla Sardegna dopo 40 anni non è stato così vicino, ma occorre ancora lottare per vincere definitivamente la battaglia. E questo è in sintesi lo stato dell'arte del piano di eradicazione della peste suina africana tracciato stamattina a Cagliari dal Presidente della Regione Francesco Piglieru. L'occasione è stata offerta da una conferenza stampa in cui è stato illustrato il report che sarà il centro di un seminario in cui prenderanno parte i maggiori esperti mondiali di peste suina africana. Alla presentazione del rapporto è intervenuto anche José Viscaino, un massimo esperto nella lotta a malattie infettive animali e docente dell'Università di Madrid. In Sardegna dal 2012 al 2017 il numero di focolai della peste suina africana si è ridotto del 75% nei maiali domestici e del 64% nei cinghiali. In calo anche il numero di maiali allo stato brado e legale grazie agli interventi di depopolamento portati avanti dall'unità di progetto a partire da dicembre. Da una popolazione stimata all'inizio del 2017 di circa 3.000-5.000 capi nel Nurese e Nogliastra ne sono stati abbattuti 1.700 tra Arzana, Baonei, Desulo, Nuoro, Orgosolo, Talana, Ursulei e Villagrande e Slisaili. I dati dei dossier sono stati elaborati dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna. Risultati ha sottolineato il Presidente Piglieru che vanno al di là di ogni aspettativa e che testimoniano gli sforzi fatti sulla repressione anche a livello culturale nel convincere la Sardegna che la sconfitta della peste suina africana porterà benefici enormi. Con 1.700 maiali bradi abbattuti abbiamo raggiunto un risultato eclatante, ha sottolineato il Direttore Generale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale Alberto Ladomada. Questo vuol dire che stiamo intaccando il noce roduro della malattia. Secondo gli esperti è funzionato anche l'effetto dissuasivo di queste azioni che hanno portato molti allevatori ad abbattere i capi infetti o comunque a tenerli al chiuso con l'effetto positivo di interrompere il ciclo epidemiologico della malattia.